Pigliatemi la 104 raga, raga non ci credo neanch'io raga, non ci credo neanch'io Raga pigliatemi la 104, pigliatemi incalmante Che sofferenza raga, che sofferenza, ma vai, ma andiamo, e andiamo, ma quanto godo, ma quanto godo E andiamo, e dai, e dai, e dai, dai cazzo che non era facile per come eravamo partiti Avete visto quel video fine primo tempo di Parma Inter, vi spacco a tutti quanti se non vincete la partita Li ho spronati io da casa ragazzi, li ho spronati io da casa Abbiamo vinto con due gol di due difensori praticamente Bastogne e De Vrij ragazzi Prima De Vrij e poi Bastogne, abbiamo fatto due gol in pochissimi minuti, neanche in due azioni Comunque posso dirvi una cosa, l'Inter stasera ha corso, ha avuto tante occasioni Ha sprecato tantissimo, però ha creato tanto, si è visto l'impegno in campo Il primo tempo la cosa che mi faceva incazzare ragazzi che prendevamo troppe ripartenze Cioè, purtroppo i difensori dell'Inter non stavano neanche al posto giusto Io non so come cazzo l'abbiamo preparata questa partita, non so quali erano gli schemi Perché era possibile che quando loro prendevano palle e facevano i contropiedi Noi non riuscivamo assai, abbiamo faticato anche all'andata con questi qua Nelle loro ripartenze, con questi qua abbiamo anche rischiato all'andata ragazzi Questi qua fanno delle ripartenze della Madonna Hanno due giocatori velocissimi nelle fasce come Gervini e Kulusevski ragazzi Una cosa incredibile E c'è poco da fare Perché quando puntano i difensori, questi qua ti creano problemi Anche se sono due contro cinque Anche, vi faccio un esempio Sanno, che cazzo ne so, cinque giocatori dell'Inter Cinque giocatori dell'Inter Con a destra Gervini e a sinistra Kulusevski che stanno ripartendo Ti mettono in difficoltà comunque perché sono due giocatori velocissimi Sono due giocatori che anche nell'uno contro uno Sono rapidi con il piede, fanno la giocata e ti superano facilmente L'Inter questa sera ha proprio sofferto sotto questo punto di vista Per le ripartenze del Parma, non solo stasera, anche alla gara di andata Questo, io già nel senso prima che iniziasse questa partita Avevo questa preoccupazione, questi Questi, questa paura Delle ripartenze del Parma Datemi la 104 Datemi qualcosa regà Perché Più vivo e più E più vi amo Contro tutti e contro tutto Nonostante le critiche a fine primo tempo Tutto quel cazzo che vi pare, regà, ma Ovviamente se noi avessimo perso e non avessimo vinto questo video sarebbe stato diverso Ma io vi amo troppo Più vivo e più vi amo, veramente Sto male Sto male Sto male Più 4 dall'Atalanta Praticamente il Milan oggi ci ha fatto un favore Perché la Roma in questo momento è quinta in classifica E quindi non so neanche quanti punti sta la Roma Abbiamo allungato ancora più 3 dalla zona Champions League Cioè dal quinto posto Quindi ormai praticamente fra qualche giornata dovrebbe essere matematico Che noi l'anno prossimo giocheremo ancora per il terzo anno di fila in Champions League E questa è una cosa positiva È stata una partita sofferente Molto molto sofferente L'importante è averla portata a casa Lukaku ragazzi è indiscutibile Lukaku ragazzi è veramente indiscutibile Lavora Da palloni Si sbatte sempre per la squadra Lautano Martinez Svogliato E molto veneziano Alexis Sanchez Bisogna dargli tempo Ve l'ho detto ragazzi Bisogna farlo giocare di più Perché è un giocatore che ha classe nei piedi E si vede Porca troia Ci sarà un motivo se avrà giocato al Barcellona Ci sarà un motivo se avrà giocato al Barcellona Alexi Sanchez Che a volte giocava anche da titolare col Barcellona Ci sarà un motivo Sarà un forte giocatore Ragazzi parlando del centrocampo invece Eriksen sotto un po' sotto tono Un po' una partita Brutta è la parte sua Che Andreva Ha fatto il suo E mi è piaciuto Moses quando è entrato D'Ambrosio ragazzi Deve ritrovarsi È fuori da tantissimo Godin anche lui Stessa cosa Era fuori da tanto Per quanto riguarda invece De Vrij Ottima partita Secondo il mio punto di vista Ragazzi Ottima partita Potete dirmi quello che volete Ma secondo me De Vrij Stasera ha fatto un'ottima partita Perché purtroppo ragazzi Quando ti trovi Un Parma Così va in confusione È impossibile leggere In quel momento Le ripartenze del Parma Comunque l'importante ragazzi Era portarsi a casa Questi tre punti E vincere E andare ancora A meno 8 dalla Juve Io vi saluto Vi do un bacio Vi ringrazio a tutti quanti E dico come sempre Forza Inter Sempre solo questo Sempre solo la maglia ragazzi Vi saluto Sennò questo video dura troppo Sto a morire